Il lavoro di squadra azienda, sindacati e istituzioni in merito alla chiusura del supermercato Sigma di Caorso sembra dare i primi frutti. Nel corso dell'incontro di questa mattina la dirigenza del gruppo Realco ha comunicato l'intenzione di aprire un anno di cassa integrazione straordinaria per tutti e nuovi dipendenti a partire dal 1 marzo visto che la serranda del negozio sarà definitivamente abbassata il 28 febbraio. Ma non è tutto, a quanto pare sarebbe già arrivata qualche proposta di colloquio da alcuni supermercati della zona intenzionati ad assumere qualcuno dei lavoratori interessati dalla procedura. La volontà di tutti noi, ha commentato il sindaco di Caorso Fabio Callori, è arrivare a fine anno con tutti e nuovi dipendenti ricollocati. La Realco si è dunque impegnata a contattare tutti i Sigma della nostra provincia per fornire una corsia preferenziale a questi lavoratori in caso di nuove assunzioni. Grazie a tutti.